Questa mozione chiede un impegno alla Giunta di farsi carico presso il Governo per l'apertura o riapertura, anche se si tratta di più di un secolo fa, della Casa Gioco di San Pellegrino Terme. Certo è che sicuramente è un provvedimento che è abbastanza fumo negli occhi per il territorio bergamasco, perché i parlamentari bergamaschi si erano già espressi, almeno nell'ultimo anno, in diversi incontri anche con il Sindaco Milesi e si erano presi in impegno di intervenire con degli emendamenti affinché si procedesse ad avviare l'iter per la concessione, per poter aprire la Casa Gioco di San Pellegrino. Questo non è mai stato fatto, è stato fatto poi con un ordine del giorno alla legge di stabilità, poco meno di un mese fa dall'onorevole Fontana di Forza Italia, ma gli ordini del giorno sappiamo benissimo quanto valgono, anzi la mozione stessa cita un ordine del giorno, un pronunciamento a Camera dei Deputati del 13 novembre 2008 che dice più o meno la stessa cosa, che impegna il Governo a valutare opportunità e prevedere un provvedimento legislativo atto e autorizzare l'apertura a Casa Gioco di San Pellegrino. Quindi non credo che sia un elemento aggiuntivo perché se c'è la volontà politica di portare avanti l'apertura della Casa di Gioco di San Pellegrino, non è questa l'aula che deve esprimersi, ma è il Parlamento a Roma. E abbiamo dieci eletti bergamaschi che potrebbero fare i consiglieri provinciali, come diceva il consigliere Anelli, in quel caso in Parlamento e portare avanti un'istanza che ritengono importante se non fondamentale per il territorio avalbambana. Il fatto di farlo qua è sempre un modo di comportarsi alla vorrei ma non posso. Dove posso? Faccio finta di niente, faccio l'ordine del giorno e poi qua per fare una pagina di giornale domani e dire che i consiglieri dei giornali bergamaschi sostengono la riappertura a Casa di Gioco di San Pellegrino Terme si fa votare una mozione sapendo benissimo in quest'aula quanto valgono le mozioni. Facciamo fatica a far rispettare le mozioni che impegnano la Giunta su provvedimenti che la Giunta stessa è competente e può attuare. Figuriamoci sulle mozioni che impegnano la Giunta ad attivarsi presso il Governo. Quindi che provvedimento, l'importanza e il peso di un provvedimento del genere? L'abbiamo visto addirittura sugli ordini del giorno e soluzioni, su consigli ad hoc, sulle riforme costituzionali che toccavano questo Parlamento stesso, quindi questo Consiglio regionale, quanto sono state tenute in considerazione e quanto che peso ha una mozione che poi va a Roma. Quindi l'invito ai miei colleghi che bene o male quasi tutti hanno, compagni di partito a Roma, se vogliono portare avanti un'istanza del genere lo facciano nelle sedi competenti e lo possono fare in un tempo brevissimo. Si parlava di inserirlo nello sblocca Italia, nello sblocca Italia non è stato inserito, si parlava di inserirlo nella legge stabilità, è stato fatto un ordine del giorno. Quindi a quanto pare la volontà politica, laddove ci sono le competenze per portare avanti un provvedimento del genere, non c'è. E allora interveniamo con un provvedimento, e non me ne voglio al collega Bruni, in un Parlamento che quelle competenze non le ha. Quindi è un intervento decisamente leggero. Entrando poi nel merito della questione. Io non sono così convinto che una casa di gioco aiuti e contribuisca a riattivare il turismo in una zona come quella della Valbrembana. Sono dato a vedermi, qualcuno mi ha anche anticipato poi nell'intervento, i bilanci dei vari casinò e non se la passano assolutamente bene. Vero è anche che se si volesse fare un provvedimento serio sulle case da gioco, ed è vero quello che diceva il consigliere Barboni, che nelle case da gioco è più facile controllare i giocatori, è più facile controllare anche da dove provengono i soldi, perché sappiamo benissimo che spesso le sale videopoker servono per riciclare il denaro a parte della malavita e delle organizzazioni criminali, questo lo sappiamo benissimo, e probabilmente facendo poche case da gioco sarebbe più facile controllare la gestione del denaro stesso, quindi questo fuori dubbio, ma questo vorrebbe poi un provvedimento sempre carattere di Governo nazionale e di Parlamento che sia a 360 gradi. Allora a quel punto abbiamo visto negli ultimi 3, 4, 10 anni una completa liberalizzazione di videolotteri, videoslot con jackpot da 200-300 mila euro, che quindi hanno aumentato sì la ludopatia anche in un momento di crisi economica, e poi adesso chiediamo la deroga per San Pellegrino, poi domani lecitamente uscirà un altro territorio che magari ha già avuto storicamente un casino e chiederà giustamente un'altra deroga, allora a questo punto chiediamo un provvedimento perché si riordini tutto il sistema del gioco, ma credo che nell'ultimo anno e mezzo abbiamo visto che intenzione c'è da parte del Governo di intervenire su quello, sono state tagliate le multe di diversi miliardi di euro ai concessionari del gioco, diceva prima la consigliera Magoni emendamento legge stabilità e lì emendamento non ordine del giorno per sanare la situazione di tutte quelle sale da gioco tra virgolette clandestine, e chissà perché lì c'era la volontà politica e si è fatto un emendamento e per il casino di San Pellegrino si è fatto un ordine del giorno. Quindi dico se c'è la volontà politica si può fare a Roma, facendo attenzione che penso che la sala da gioco più importante, più simile per caratteristiche quelle di San Pellegrino è quella di Campione d'Italia, perché le altre comunque vivono di un turismo loro, Sanremo, San Vensanto e Venezia, e quindi la sala da gioco è un valore aggiunto, volendo vedere, mentre San Pellegrino si conforma molto al territorio perché rimane una sala da gioco isolata e quindi si rischia di creare poi un sistema di mono economia che abbiamo visto negli ultimi dieci anni ha fallito con licenziamenti, contratti di solidarietà, buchi, dato che poi il casino è comunale di 40 milioni nel 2012, di 50 nel 2013, e quindi io starei attento, non sono assolutamente contrario, ma starei attento a fare un investimento del genere e a pensare che lo sviluppo di una vallata che ha un turismo che dovrebbe svilupparsi sulla natura, sull'agroalimentare che dovrebbe essere valorizzato, invece sposti su orientamento, sposti gli investimenti su un casino che non credo siano in grado di dare uno sviluppo economico così come qualcuno vuole immaginarsi al territorio della Valbrembana. Quindi sono questi principalmente i motivi che mi spingono a votare contro questa mozione, non perché siamo contrari a una revisione del sistema del gioco, non assolutamente, qua mi metto le vesti del consigliere provinciale bergamasco, non perché sono contrari a un sistema integrato in Valbrembana dove possa essere previsto anche questo, ma perché uno va fatto nelle sedi opportune. Se si vuole fare, la volontà politica dimostra spesso, ahimè in negativo, che si possono fare i provvedimenti e prenderli anche velocemente. E dall'altra parte perché forse il sistema di sviluppo economico della Valbrembana meriterebbe anche delle altre visioni e degli incentivi economici per uno sviluppo agroalimentare del territorio che porterebbe a un turismo più sano e probabilmente anche più duraturo. Grazie a tutti.